Ci siamo signore e signori, il pala onda è pronto, le squadre sono arrivate e si sono già allenate, la Final Four è quasi servita. Domani si alzerà il sipario e andrà in scena l'atto finale della massima competizione europea di pallavolo maschile. Tutti i fari sono puntati sulla padrona di casa, la Trentino Betlik che alle 15 di sabato aprirà i giochi sfidando lo Yashembi alla formazione polacca guidata da Lorenzo Bernardi. Poi l'altra semifinale alle 18, quella tutta di marca russa tra lo Zenit Kazan e la Dinamo Mosca. Domenica alle 14.30 la finalina, alle 18 la finalissima che consegnerà nelle mani della vincitrice la Coppa dei Campioni. La Trentino Betlik che vorrebbe alzarla al cielo per la terza volta consecutiva e potete scommettere che lotterà fino alla fine per farlo.